Dal 30 giugno siamo finalmente diventati una nazione cashless, cioè senza contanti. Oppure no? Beh, scopriamolo insieme. Questa è una classica storia italiana. Infatti, l'obbligo per gli esercenti di avere il POS come sistema di pagamento al pubblico deriva dal decreto legge del 2012, ma è entrato in vigore solo nel 2014. In tutto ciò, però, non era prevista una sanzione pecuniaria per chi non rispettasse questo obbligo. Insomma, abbastanza inutile. Infatti, sapevamo come era l'andasso, vero? E non ho internet, e non mi funziona proprio in questo momento, il POS mi dispiace e non puoi utilizzare la carta, mi è morta la nonna, insomma, tutte le scuse possibili di questo mondo per non farci pagare con il POS. Ma il 30 giugno, appunto, arriva una sanzione per quelli che, appunto, non rispettano questo obbligo, e cioè di 30 euro più il 4% del valore della transazione. Questa sanzione ha fatto discutere sotto molteplici aspetti, cerchiamo di analizzarli più o meno tutti e fare un po' di chiarezza. Ad esempio, molti si sono lamentati del fatto che l'esercente non sia obbligato a possedere anche altri sistemi di pagamento oltre il POS e il contante, come pagamenti attraverso il cellulare, attraverso delle applicazioni o dei sistemi come Paypal. A mio modo di vedere, questa critica non è tanto fondata, in quanto se dovessimo prevedere effettivamente anche tutte le altre forme di pagamento digitali, beh, l'esercente sarebbe costretto a scaricare mille e mila app per permettere a tutti i cittadini di pagare come vogliono. E questo sarebbe un enorme costo, ovviamente, per l'esercente. E sarebbe quindi un obbligo impossibile da seguire, perché se il consumatore mi arriva con l'ultima app che è nata l'altro ieri, ovviamente, magari l'esercente non ce l'ha e quindi non può soddisfare questo obbligo. Dall'altra parte, ho sentito anche opinioni che si lamentano che ci vogliono togliere il contante, ci vogliono tracciare, saremo obbligati a utilizzare il POS. E purtroppo anche questa idea risulta sbagliata, perché l'obbligo deriva solamente verso gli esercenti. Gli esercenti hanno l'obbligo di possedere il POS ed eventualmente dare a disposizione questo sistema di pagamento nei confronti dei consumatori. Quindi, se il consumatore arriva e vuole pagare in contanti, non è che l'esercente dice No, devi pagare con il fottutissimo POS! E ti sbatti il POS in faccia cercando qualche codice che faccia avvenire la transazione. Non funziona ovviamente così. Se io entro in un edicolo o in un ristorante e voglio pagare in contanti, potrai benissimo pagare in contanti. Stai tranquillo. Di nuovo, l'obbligo è per l'esercente, non per il consumatore. E in tutto ciò, inoltre, non c'è nessuno che vuole eliminare il contante, neanche la Banca Centrale Europea. Ad esempio, l'anno scorso l'Italia è stata fortemente criticata dalla Banca Centrale Europea, perché attraverso la politica introdotta dal governo Conte, cioè quella del cashback, beh, ha citato il fatto che veniva discriminato l'utilizzo del contante, che in realtà poteva essere liberamente utilizzato e anzi preservato il suo utilizzo all'interno delle economie europee. Quindi nessuno vuole abolire il contante e anzi quelli che cercano di farlo vengono bacchettati addirittura dalla Banca Centrale Europea. Il punto è che si vuole dare la maggiore disponibilità di sistemi di pagamento per i cittadini. Poi ognuno è libero di pagare come diavolo vuole. Tranne in natura, quello, cioè, puoi farlo ma non è in teoria consentito dalla legge, quindi dipende dalle parti. Prima di andare oltre, lo sponsor di oggi è io, con i miei servizi di educazione finanziaria. Infatti, se volete iniziare ad investire nei mercati finanziari, aumentare la vostra educazione finanziaria o togliervi qualche dubbio in questo senso, beh, ci sono le mie consulenze. Io sono un educatore finanziario professionista, seguo giornalmente i mercati e, inoltre, ho letto abbastanza letteratura in questo campo. Quindi, se siete interessati, potete usufruire delle mie consulenze one to one. Ci sono tutte le informazioni nel mio sito che trovate in descrizione, ma, eventualmente, possiamo organizzare anche una videochiamata gratuita conoscitiva per chiarire qualsiasi dubbio. Quindi, vi aspetto. Continuiamo. Un'altra cosa che citano molti è il costo delle transazioni attraverso il post che ritengono molto elevato e che, al di sotto di un importo di spesa, è assolutamente sconveniente. E, purtroppo, anche questa è una fake news. Ora, io capisco tutte le difficoltà di portare avanti un'attività commerciale e tutto il resto, ma le tariffe medie in Italia, secondo un report della Commissione Europea, equivalgono intorno all'1,5%. E io, andandomi a fare un giro, proprio in questo momento, riguardo alle tariffe che offrono i diversi servizi di post, ci aggiriamo tra l'1% e il 2%. E, inoltre, non ci sono, per la maggior parte delle volte, costi fissi e, addirittura, è stato anche eliminato il noleggio del post. Quindi, in realtà, utilizzando il post, il commerciante, il più delle volte, ha un costo di transazione tra l'1% e il 2%. Quindi, quando vi rifiutano il pagamento del caffè attraverso la carta perché dicono, ci rimettono, ecco, a meno che il loro guadagno sul caffè equivale ad un centesimo, che è appunto l'1% di un euro, è molto difficile che l'esercente ci possa rimettere a causa dei costi di transazione del post. I margini di profitto per una qualsiasi attività commerciale vanno ad almeno il 10% fino al 20%, 30%, 40% dell'importo della transazione. Quindi, immaginare che questi costi di transazione pari all'1% o 2% possono far esplodere il proprio business, possono farlo fallire, beh, ovviamente il problema non è il post, ma è come è strutturato il tuo business. Perché, se hai una marginalità inferiore all'1%, io qualche domanda me la farei e forse penserei anche di chiudere l'attività. Lo so, l'ho posto in una maniera un po' cattiva, però sinceramente io mi sono stancato di questa fake news che gira dappertutto. I costi ci sono, ma sono molto bassi e non giustificano neanche alcune genialate commerciali come ad esempio far aumentare il valore della transazione di 1 euro se decido di pagare il post. A parte che questa attività è illegale, non posso far aumentare il costo della transazione in base a quale metodo di pagamento io scelgo. Ma, inoltre, come abbiamo visto, per giustificare un aumento della transazione di 1 euro o 2 euro, io, in teoria, dovrei spendere 100 o 200 euro di acquisti. Perché, ripeto, il costo della transazione ammonta all'1 o 2%. In tutto ciò, lo Stato, dal 2020, ha previsto anche un credito d'imposta pari al 30% sui costi delle transazioni di questi sistemi di pagamento attraverso il Bancomat o la carta di credito. Ecco, ma voglio insistere su sta roba dei costi di transazione che secondo me non ha alcun senso. Infatti, se prendiamo i dati riguardo i costi di transazione in Italia e in Europa e li paragoniamo, smontiamo ancora di più tutta questa storia che ci raccontiamo sul fatto che, no, non accetto il post perché i costi di transazione sono troppo alti. Infatti, come vediamo dalle statistiche, i costi di transazione riguardanti i pagamenti attraverso il post sono nella media nei confronti degli altri paesi europei, come vediamo da queste immagini. Guardatele bene, eh! E guardate dov'è l'Italia, perfettamente nella media. Ora, se io vi mostro il dato riguardo all'utilizzo dei pagamenti attraverso post, guardate dov'è l'Italia. Nelle ultime posizioni. Nelle ultime posizioni, nonostante i costi di transazione, sono perfettamente nella media a livello europeo. I commercianti, soprattutto le micro e piccole imprese, uno dei grandi problemi dell'Italia, non accettano il pagamento in post o fanno così tante storie semplicemente perché o un fattore culturale preferiscono avere il contante, oppure un altro secondo fattore culturale amico amico è l'evasione. Perché sì, l'evasione è soprattutto concentrata nelle micro e piccole imprese. Quindi non giriamoci attorno. I costi di transazione sono bassi e il più delle volte, attraverso le proposte commerciali, sono a percentuale. Quindi anche se io dovessi spendere 20 centesimi per un prodotto, a quel punto il costo di transazione si adeguerebbe a quei 20 centesimi. E quindi di nuovo, a meno che non abbiamo dei margini su quel prodotto inferiori al 2%, ci starei sempre guadagnando, nonostante tutto. In realtà in tutto ciò c'è un grande misunderstanding, perché facciamo tanta risonanza e tanto chiazzo riguardo ai costi delle transazioni del post, che come abbiamo visto sono visibili e facilmente calcolabili. Il punto è che, dall'altra parte, il contante noi lo percepiamo come un sistema di pagamento gratuito. In realtà non è assolutamente così, come mostrano anche queste statistiche della Banca Centrale Europea. Il contante ha un costo, certo inferiore rispetto a quello del post, ma sicuramente ha un costo. Ha un costo di gestione, devo perdere tempo a contare i soldi e vedere se ci sono tutti. Ha un costo di perdita, posso smarrire, perdere il contante. Oppure anche il cassiere può prendersi un po' dei nostri soldi. Ha un costo riguardo al rischio di rapina, infatti è molto più semplice rapinare il contante. Ha un costo riguardo al resto, magari non abbiamo l'esatta disponibilità per dare il resto, oppure una perdita semplicemente di tempo. E questo vale non solo per l'esercente, ma anche per il consumatore, che deve gestire questi contanti. Inoltre, sapete qual è il costo maggiore del contante? Beh, perdere i clienti che vogliono pagare con la carta. E lì si tratta di percentuali molto maggiori dell'1%, anzi, addirittura 100% di perdita in quel caso. E quanti di voi non vanno più in qualche tipo di locale perché non accettano il post? Sono clienti persi, una perdita netta importante. E questo rischio di perdere clienti perché non si accetta il post diventerà sempre più alto visto che i sistemi di pagamento digitali stanno diventando sempre più diffusi. Quindi io vi ho avvisati. Questo aspetto è molto interessante anche da un punto di vista psicologico. Infatti ci insegna che noi esseri umani abbiamo estrema difficoltà a percepire un costo, un danno oppure un rischio, a meno che non sia facilmente prevedibile e calcolabile. E quindi sottostimiamo tutti questi aspetti che in realtà ci sono ma di cui non teniamo conto. Perché focalizziamo la nostra attenzione su quello che è facilmente rendi contabile, come ad esempio appunto le proposte commerciali bancarie. Noi sappiamo esattamente che quello avrà un costo del 1,9%. Mentre il contante, che è molto più difficile da calcolare come costo, beh, lo percepiamo come gratuito. In realtà non è assolutamente così. E anzi, c'è anche un costo a livello sistemico di gestione da parte dello Stato, e delle banche centrali. Maronne che caldo! Insomma, alla fine della fiera, questa sanzione servirà a qualcosa? Beh, secondo me a poco. Perché immaginatevi voi a pagare un caffè di un euro, cacciare la carta e l'esercente che si rifiuta di accettare il post. Veramente voi sprecate una mattinata del vostro tempo a chiamare la guardia di finanza o qualche altra autorità, aspettare che arrivano, controllare se effettivamente il post funziona o non funziona, se non funziona per legittimi motivi oppure meno. Insomma, tutto ciò per il costo di un caffè. Mi sembra uno sforzo da parte del consumatore molto alto per un beneficio molto basso. La cosa che spesso fa il consumatore è, la prossima volta, non andare in quell'esercizio commerciale. Quindi, probabilmente, la cosa più utile da fare sarebbe quella di fare controlli a campione da parte direttamente delle autorità di vigilanza senza stare ad aspettare la chiamata del consumatore che trova in flagrante l'esercente che rifiuta il pagamento con il post. Ma volete sapere la verità? La verità è che questa legge è sacrosanta in quanto amplia le libertà da parte del consumatore di pagare come vuole. E tutte quelle persone che si stanno lamentando di questa iniziativa perché vogliono utilizzare solo il contante beh, semplicemente stanno limitando la libertà altrui. E molto spesso, magari, queste persone si lamentano della libertà d'espressione e digitano su Facebook Buongiorno Caffè e vogliono andare in Russia perché quello sì che è un sistema democratico invece l'Italia no. Insomma, ci trovo tanta ipocrisia in tutto ciò. Detto ciò, ringrazio il Consiglio di Amministrazione di WhatsApp Economy che sostiene il progetto attraverso i loro abbonamenti e se volete entrare anche voi nel CDA beh, link in descrizione e potrete raggiungerci. Niente, direi che ci vediamo alla prossima. Ciao!